Rosucci sulla sinistra, prova a puntare la porta, può metterla in metto a Rosucci, la Juventus è in vantaggio al sesto minuto, Barbara Bonansea, il primo marcatore della storia della Juventus in Serie A. Ionda gli ruba palla molto bene, tutto regolare, Ionda funge verso la porta, Ionda! Parte i conguli contro Giuliani, la barata di Giuliani! La barata di Giuliani! La palla per Rosucci che ci pensa! Ed è gol! Martilano Rosucci, la signora ha colpito, ancora lei! La barata di Giuliani!